si ma... ok coprimi max coprimi max coprimi lo fa per fare, lo fa per fare vai giocala giocala e poteteci guarda gang ok adesso mi sono veramente rotti i coglioni no 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 io non faccio nessuna classificazione se la vinciamo guarda tanto cristiano ora arriva ram no 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 io non faccio nessuna classificazione ho un po' del cazzo facciamone a non classificata no non posso correre sono bloccato nel volte di los angeles mi vuoi rivedere un attimo la situazione al volte di los angeles sono bloccato nel volte di los angeles ho fatto in modo che vado a parlare con morpheus per parlare con morpheus ho dovuto usare un bug che praticamente vado in modalità combattimento uso le scale e continuo a spammare A così continuo ad andare nella modalità combattimento e nella modalità combattimento il nike non mi vede così posso sgattaiolare dentro la stanza di morpheus e posso parlare con morpheus adesso anche se ho i compagni di solito i compagni non mi permetterò di parlare con morpheus perchè sono giove fatto da becani parlo con morpheus e gli dico sei un coiore portami dal maestro mi porta al maestro gli dico ehi i tuoi mutanti sono sferi sei un coiore ti fai spodere vado nel coridoglio tutti i miei compagni muolino perchè il coridoglio è pieno di azioni io sopravvivo grazie alla mia grande potenza del non maestro cazzo e per qualche motivo hanno fatto che questi mutanti possono possono colpirti due volte con le sue le loro armi di merda che fanno 200 di danno a colpo me ne vado me ne vado non riesco ad andare dritto ragazzi sono bloccato nel volto di osagen mi hanno vittuto oh no devo metterlo come nuovo nuovo stato su twitter sono bloccato nel volto di osagen che bello è oddio è passato il vostro murak hacker perchè c'hai il fushia pompa intendo che c'è una claimo perchè ha solo tre fili la claimo due fili invece di tre non mi so di sparlare russia oh no no tutto sto tempo devo andare a scappare dal volto di osagenes recuta gang se c'è qualcosa che ho imparato nei miei anni e che sono bloccato l'obiettivo di fare 77 che bello risposta la tua domanda cazzo raga non cercateva non cercateva non cercateva non cercateva non cerca una butta fuori i nucleari ma cosa era davanti a me se se avessi potuto correre lei sarebbe morta ma atto che cazzo i mirino hai entrato maverick attento che cazzo volete porco di una come ha rubato la kill il mio e mia difesa e mia difesa mi son divertito molto arturo mi mandi uno dei pc che hai rubato anche quello devo giocare a flauti in vega se sto andando in assistenza raga mozzi è stupidissimo non è vero io mi ammazzo da solo quando ti ma non tudo eye non è l'ordine team hue m t andre andre 20 punti si 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 lo crederanno tipo che non lo stai apposta ok puoi avviare cosa cambia se stasera dobbiamo fare classificata rido perché non sto suonando ma mi fa ridere arturo e c'è la bocca sulla fisica che fa rumore e poi rido ancora di più che cazzo facciamo facciamo porco di arturo ma vi credete tanto divertenti a parte te qualcuno sta ridendo si le voci nella mia testa c'è mazzi attenti c'è mazzi attenti c'è pulso attenti c'è mazzi attenti andre che cazzo fai si non riesco a muovermi ah dai dai è qua per dio Perché sta morendo questo? C'è montagne Porca puttana C'è montagne qua E qua fuori c'è uno Aiuto c'è Madonna l'ho ninjaato Dobbiamo fare un canale tipo unito Rimbos exige e Fortnite ogni tanto Rimbos exige ma se perdiamo in classificato Io l'ho scaricato No io non riesco a mi venire a capriccio Non vi mettete davanti L'ho terrato lanciandogli la bomba Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Ma dai non ho più munizioni Rivalità fra sorelle Rivalità fra sorelle Rivalità fra sorelle Dove sei? Dove sei? Eh edificio rosa Easy No ragazzi c'è Eh adesso sto andando Qua e tipo sulla gamba Quindi mi ritorno Stanno in giù Stanno in giù Sta partaggendo il disinnesco Lo stai piccando Gaglio 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 Non dire cagate Ho sbagliato giuro Ho sbagliato Non l'ho fatto apposta Uccidimi Ma non vale Ma c'è una porta Che cazzo vuol dire C'è una porta Dai Non c'era quella porta Una volta Eh ma sai L'hanno rifatta Ma non voglio Che rifacciano le mappe A me piaceva Quella di prima Come sto facendo Queste cose Non l'hai preso Ma no Non volevo Sei mortissimo Non vorrei dirtelo Ma chi? Non è vero Ma quanto cazzo Sono forte Dio cane Ma scemo Gli ho fatto cadere La granata Gli ho fatto cadere La granata Ho ucciso il compagno Chi è che spacca Come un mona Max 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 Guarda Sono bravissimo Bro Quanto sono bravo Seppur incastrato nel muro Pervio Che cazzo Che cazzo era? Che cazzo era? Attenzione Leoco pulse ma senza fucile a pompa Eh no Eh Che succede? Che succede? Abba si ritrova a cabeza dietro sicuro CHURT